Tornano a rivivere le opere e le serigrafie di Massimo Dolcini con Pesaro 2024 all'interno del progetto Archivi Ubiqui, attraverso dei laboratori gratuiti che si svolgeranno fino al 21 agosto lungo corso 11 settembre e in caso di pioggia all'interno della pescheria. Un'iniziativa che riporta a Dolcini la sua arte tra la gente, soprattutto tra i ragazzi, come ci racconta la sua storica compagna che l'ha affiancato durante quasi tutto il suo percorso artistico. Massimo Dolcini, come appunto approccio con la città nel suo modo, è stato inserito nel bando di candidatura di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, sotto un macro argomento che è Archivi Ubiqui. Quindi, finalizzando questo argomento, ci è stato proposto questo spazio che è l'edicola, ma poi noi abbiamo ragionato e abbiamo voluto far uscire proprio Massimo Dolcini dai suoi manifesti con una vera operazione di street art, restituendo i disegni di Dolcini dai manifesti alla strada, quindi in un linguaggio nuovo rispetto a quello degli anni Ottanta e che potesse dialogare sia con chi lo ha conosciuto, ma soprattutto con le nuove generazioni che si sono molto appassionate a questa iconografia. Parallelamente abbiamo istituito dei laboratori di serigrafia, proprio perché Dolcini negli anni della collaborazione con il comune di Pesaro, con i suoi manifesti più famosi, stampava in serigrafia, che era legato un po' alla pop art, legato a delle caratteristiche tecniche che lui ricercava e anche una tiratura abbastanza limitata perché i manifesti erano 100-150 al massimo e avevano una resa fortissima, il segno serigrafico è un segno inconfundibile. Questa tecnica che si allontana sempre di più dal digitale, quindi dall'epoca in cui tutto può essere fatto e rifatto 100 volte, noi invece siamo tornati alle origini con laboratori estremamente materici e che hanno riscosso un grandissimo successo partecipativo. Quindi questa piazza che sta diventando una piazza in questi giorni, invece prima era semplicemente un transito, e in questi giorni si è trasformata una vera piazza della cultura e quindi insomma il nostro obiettivo è stato anche raggiunto. Laboratori che hanno attirato tantissimi pesaresi e non solo, finendo in breve tempo gli slot disponibili andando sold out. Tuttavia c'è ancora una possibilità per partecipare a quest'ultimi ed un grande finale tutto da vivere. I laboratori sono gratuiti intanto, noi mettiamo la carta e da casa si può portare quello che si vuole, una t-shirt, uno strofinaccio, una cartolina, una copertina di un libro, insomma qualunque cosa, perché la stampa serigrafica va sopra qualsiasi supporto. Ci si prenota qui all'edicola Dolcini a questo punto, i posti sono quasi terminati, ma magari se uno viene in qualche modo riusciamo a inserirlo, lo inseriamo volentieri. Questi laboratori domani sera finiscono e alle sette c'è un finissage, quindi ci saranno delle talks, parlerà ovviamente il comune di Pesaro, poi ci sarà Jonathan Pierini, altre persone che hanno conosciuto Massimo e lavorato con lui, sarà una breve mezz'ora di racconto e poi ci sarà un DJ set, un vero finissage in un spirito molto allegro come era quello di Massimo Dolcini. Grazie a tutti.